salve a tutti i miei cari zecchini e ben ritornati in questo nuovo video di marvel snap allora faccio questo video a parte che ho modificato il mazzo wong vedete ora adesso il mazzo wong negative ho messo ho messo antman ho messo psylocke zaboo ho tolto america chavez perché si e ho messo volsbane l'ho fatto l'ho alleggerito un po e più non lo so ma comunque sigla dopo la sigla vi dicevo ho fatto questo o mazzo perché ho questa missione da fare sposta carte e io non so quali sono i mazzi buoni sposta carte quindi vi chiedo di scrivermelo qua sotto nei commenti un buon mazzo sposta carte che io poi vi faccio il mazzo e vi metto il vostro nick mi raccomando quindi commentate e adesso andiamo a provare questo wong negative sono salito fino al 40 quattresimo ho messo antman anche perché ho la mission cioè l'ho portato quasi a 500 mi mancano solo i potenziamenti quindi cerchiamo di potenziare antman e cerchiamo fanno black panther perché io mi è rimasto qua black panther quindi ragazzi vediamo subito cosa si può fare magic perché c'è magic in questo marzo e maximus successo aggiungere la carta casuale di questo 3 è malato maximus che non mi serve ma io magic non ce l'avevo però comunque questo mazzo perché adesso ce l'ho c'è qualcosa che non va qui sotto qui sotto non c'è magic vedete non capisco perché ho magic tra le mani vabbè comunque dopo il terzo e quarto e quinto turno non si possono aggiungere carte in questo campo ok intanto giochiamoci zaboo subito non capisco perché c'è magic non devo riguardare il mazzo mazzo era quello giusto ma non lo so non ne ho idea terzo turno ci giochiamo subito negative anche blu marvel non ce l'ho blu marvel io nel mazzo non ho messo il mazzo giusto questo è il mazzo negative ho sbagliato di nuovo tutte le volte mi sbaglio ah vabbè cerchiamo di vincere lo stesso sarà difficile ora vincerla però però ci proviamo uguale dopo che giochi una carta qui distrugge per ottenere più due di energia non lo so giocherò jambi lì così una me la tiene giusta lui gioca huntman io ora huntman non ce l'ho perché ho sbagliato maschio di nuovo Wong mi piace insomma no che non mi piace perché ora non ci posso giocare niente allora c'ho 7 oddio potrei già fare così e non sarebbe male poi metto niente non mi dovrebbe distruggere la carta speriamo di pescare la nostra amata white tiger se neanche turno 5 però abbiamo sette lì sette turni in questo mazzo in questa partita dai white tiger pescami white tiger ti prego ci vuole ci vuole pescamela mamma mia questo è andato così beast da basta basta allora se io faccio così questa è la scoperta questa è la scoperta non è che ci serve a molto ci porta tutta a tre mettiamo non so se riesca a fare il suo 17 no però ancora un turno posso mettere maximus qua che mi da sei non è male e dopo fare blu marvel mystic se non mi da però vediamo ok così può stare blu marvel mystic mi da più uno a tutto però non è male però non mi servirebbe più mystic quindi potrei fare iron earth qui che me lo fa due volte un blu marvel qui e un mystic qui posso mai perdere giusto vediamo non posso mai perdere cheat ma io sono fiducioso vediamo cosa mette lui un altro deve venire questo campo lo vince ma gli altri due non credo proprio non credo proprio per lui 18 pari 22 abbiamo vinto giusto ok la prima l'abbiamo vinta però devo cambiare mazzo abbiamo visto che non va bene questo ci prendiamo questi occhi cubetti vi ricordo di scrivere il mazzo sposta un mazzo che sposti le carte perché io non ho idea e guardare su internet non ciò sbatta quindi se me lo consigliate voi è meglio mazzo buong o buong negative questo voglio perché voglio portare antman cioè voglio prendere potenziatori di antman per portarlo perché ciò il quello da 500 cioè quello che mi dà 10 passi ora è buona 3 di forza le carte senza abilità posizionate qua io non ho carte senza abilità e quindi allora io andrei subito di zabu chi possiede più carte in questo campo tiene 100 di forza e già bu che mi tira giù mister negative lo posso causare ora però non so eh sì forse è un buon lavoro dopo che ho usato una carta qui assegna la sua forza a due e ci metto mister negative subito e così almeno ecco il brutto di questo mazzo adesso non è venuto a mente adesso è che usare mister negative senza avere odino in mano ti comporta che non potrai più giocare odino dopo a meno che non giochi psylocke dopo però non lo so non lo so io faccio wong subito subito con white tiger o aspetto ci metto mistica aspetto ci metto mistica prima vai wong lui fa white queen ci sta bene jambi lì a 1 noi facciamo mistica white tiger e potrei fare anche jambi lì tanto si però mi mette a 2 la forza ma oddio non lo so ancora vabbè aspetto aspetta siamo al turno 6 possiamo giocarlo al turno 6 la nostra white tiger ci porta su può stare può stare può stare lui ci va di dentro però adesso ci mette due carte lui qua adesso abbiamo un bel ant man io farei wolfsbane qua scapperei e un bel ant man qua e lui si ritira ovviamente perché ma è potentissimo no non è vero si è potente dammi ant man ti prego potenziatoria wong ancora wong voglio ant man devo portare su ant man abbiamo preso anche questa che non è male qui ragazzi posta carte mi raccomando mi raccomando posta carte scrivetemi qui sotto nei commenti un bel devo spostare il mazzo devo spostare 10 carte è un bel casino per me ne facciamo un'altra veloce arrivare a 50 è impossibile perché ho visto che la gente si ritira tantissimo e è un casino fare punti qua il picco buono il picco ma come si permette prendila così il picco è ottimo mi gioco subito huntman che ha un effetto continuo potrei fare se possiede potrei fare anche no dopo non ce la posso fare facciamo subito lei facciamo subito lei se mi tira su wong non è male o mister nega che non sarebbe male styrof lui ci va subito il white tiger così io potrei fare adesso a questo punto quando una carta viene spostata non posso spostare fare subito ant man qua dopo mistica di qua che mi prende ant man giusto dovrebbe essere così io metto adam bene bene non male perché ora lui pesca tutte le volte una carta si ma stai calmo perché mister negati cavolo va bene io metto la carta posizionata qui hanno forza meno uno non ci interessa io faccio così lui metto spiderman non ci interessa ancora meno noi ci giociamo mister negativo adesso lui continua a pescare carte non so se giocarcela qua mister negativo abbiamo anche zabu attenzione zabu conviene giocarlo ma non ora perché se gioco ora zabu non posso giocare mister negativo zabu qua cioè no zabu mister negativo qua porto giù questo perché spero di avere oh rete pognaria non si può più distruggere carte qua spero di prendere wonga 2 con mister negativo prendiamo iron earth a 0 e non è male cioè quinto turno dobbiamo sperare dopo di prendere di prenderci wong a 2 devo fare così adesso se non mi tira su wong però è un casino spider woman per lui zabu per noi lui ripetca una carta wong wong a 1 e non è male quindi facciamo wong mamma mia non posso giocare iron man volevo giocare iron man di qua dopo e invece non posso giocarlo più iron man ci devo mettere per forza così posso batterlo non lo so mica se posso batterlo oddio mistica prende punti peccato valla per un punto peccato proviamo così si vai proviamo così lui ci va giochino io devo mettere questo qua quello non ci interessa spider woman non ci interessa ormai questo campo che penso va bene ma io tento di attivare gli altri due vediamo iron cosa fa 40 40 44 di là no se la fermata già ha messo troppo dicevo abbiamo visto un'altra partita io ne farei anche quasi un'altra perché vediamo se mi tira su ant man andiamo a 46 no mistica perché non mi da ant man voglio ant man voglio potenziatori di ant man per piacere mamma mia ragazzi mi ricordo anche un bel like al video mi raccomando non ve lo scordate ho visto il video precedente ha fatto un sacco di visual ma l'ottanta per cento di voi non è iscritto al canale ragazzi iscrivetevi al canale non abbiate paura non mordiamo nessuno anzi ci divertiamo in tutte le nostre live stasera live di stumble guys mi raccomando dopo il quinto turno più due di forza tutte le carte posizionate qui dopo il quinto turno ok se ci desse odino subito ora non sarebbe male ce l'ho odino nel nozio le carte posizionate qui hanno forza più uno ok ant man lo mettiamo subito qua sperando di prenderci i suoi potenziatori perché ci servono ci servono potenziatori di ant man ragazzi a tutto spiano proprio potenziatori a manetta allora vediamo lui ci mette vuol dire allora io farei zaaabu eeeh mi stick dopo no però già così posso giocare mister negative quindi zaaabu ok mi porta loro a tre mister negative al turno 4 ci sta a quinto turno tutte le carte devono essere giocati qua e speriamo di prendere wong c'è una casino lui fa così wong dai white tiger questo è un problema allora potrei mettiamoli oh me lo fa giocare solo lì questo è un altro problema ci metto lei allora eh no ma è quinto turno anche se mi desse wong è un bel problema l'unico modo per tirare su wong è questo sperando che mi tira su wong perché se non mi tira su wong è un po' bello ok va bene va bene va bene cioè no non va bene va male però sesto turno sesto turno wong ok allora facciamo white tiger oh cavolo sempre per un punto guarda perché volevo fare anche lei e wong e non posso preparare più a più niente proviamola così vai non è detto è una sul filo del rasoio è questa guarda se avessi avuto un coso in più sarebbe stato meglio nuova ora gli spatterà tutto con questa carta vero giusto e quindi si va doppia tutto e nel mezzo abbiamo perso venom ok dobbiamo cercare di fare gli altri giocatori dovrei farlo no non ce l'ha fatto per un pelo non ce l'ha fatto però eh uh attenzione pareggio victory per un 4-6 per due punti due punti questo mazzo è buono questo mazzo è veramente forte ragazzi andiamo a 47 c'è la mistica bene ragazzi per questo video è tutto io mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete iscritti iscrivetevi anche al canale di Lady Bear che apparirà qua sopra adesso che porteremo i nostri vlog nel suo canale lasciate un bel like iscrivetevi al canale per supportare questo schifo di canale speriamo e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ziacchini